Dopo una crescita di 19 mesi consecutivi, il settore dell'automotive italiano segna una battuta d'arresto con il 3,7% di immatricolazioni in meno a marzo 2024 rispetto allo stesso mese del 2023, con una flessione dell'11,9% registrata dal gruppo Stellantis. Una battuta d'arresto diventata inevitabilmente oggetto dei tavoli tecnici avviati con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sugli stabilimenti del gruppo Stellantis, con l'obiettivo di trovare la quadra tra il piano di incentivi messo in piedi dal governo e il piano industriale di Stellantis, che ha annunciato la produzione di 5 nuovi modelli elettrici per aumentare la produzione dagli attuali 170.000 vetture all'anno alle 260.000 previste. Al tavolo delle trattative, presenti anche i sindacati, preoccupati per il futuro occupazionale degli stabilimenti del gruppo Stellantis e in attesa di conoscere il piano industriale del colosso dell'automotive. Carmine Ranieri, segretario generale della CGL per Abruzzo e Molise. Dunque, il tavolo ministeriale tra il governo Stellantis e i sindacati è stato aperto sugli stabilimenti del gruppo Stellantis. Ieri è toccato a Melfi, oggi a Mirafiori. Giovedì, quindi domani, si parlerà anche dello stabilimento di Atessa. Allora, quali sono le vostre aspettative? Innanzitutto che ci sia un piano industriale concreto e che quindi noi possiamo avere quelle risposte che, per esempio, a Melfi non sono state date. Noi vogliamo sapere quali sono gli investimenti che saranno fatti sullo stabilimento di Atessa. Tutto questo riguarda gli occupati di Stellantis, ma riguarda anche l'indotto, perché vi sono diverse aziende dell'indotto, per lo più monocommittenti, che ad oggi stanno già utilizzando ammortizzatori sociali, cassa integrazione e non sanno quale sarà il loro futuro. Per cui è importante avere un piano industriale chiaro, concreto, dove siano indicati investimenti, occupazione. Per Stellantis e per l'indotto. Senza di questo noi temiamo che ci sia un progressivo depaporamento dello stabilimento, con gravi ricadute ovviamente sull'occupazione. I cinque nuovi modelli elettrici di auto che Stellantis ha annunciato serviranno a salvare l'indotto? È evidente che se ci saranno nuovi investimenti su Stellantis, si ragionerà e si dovrà ragionare anche sull'indotto, a partire da Magneti Marelli, ma non soltanto. A fianco allo stabilimento Ex Sevel di Atessa c'è uno stabilimento parallelo in Polonia, a Glice, che là si sta sviluppando un indotto, quindi è chiaro che ci troviamo anche in una situazione di concorrenza tra due stabilimenti. Venerdì intanto in Abruzzo arriverà anche Maurizio Landini, si parlerà anche di Stellantis? Certamente si parlerà di Stellantis, ma si parlerà di automotivi in generale, si parlerà di politiche industriali, si parlerà di forte precarietà, la sicurezza del lavoro con tutte le morti che abbiamo registrato in questi anni e quindi Landini verrà perché noi crediamo che nel Paese vada modificata la politica economica e sociale.